Aggiornamento di Calcio Mercato Inter, un aggiornamento molto importante perché si è aperta una settimana particolarmente calda per il mercato neroazzurro, non bastano Taremi, Zenischi, Joseph Martinez, lo stesso Simone Inzaghi nella conferenza stampa di venerdì aveva detto abbiamo fatto per adesso tre colpi. È una frase che secondo me è passata un pochino inosservata perché l'Inter sta lavorando ancora su diverse opzioni, su diversi profili, due affari sono in chiusura già nelle prossime ore più Inzaghi ha di fatto anche annunciato un prossimo colpo che non preoccupa troppo, non è un'emergenza ma è comunque un qualcosa che l'Inter vuole fare, che l'Inter andrà a fare e che proprio in queste ore l'Inter sta cercando di fare. Allora in questa settimana in cui vedremo poi anche per la prima volta in campo nella prima amichevole estiva contro il Lugano la nostra Inter bistellata con lo scudetto sul petto ci aspettiamo tante cose quindi faccio un riepilogo di tutte le notizie principali del momento in casa nell'Azzurra, le condensiamo in pochi minuti all'interno di questo che è uno dei format più richiesti ed apprezzati qui su Passione Inter. Allora ben ritrovati e ben ritrovati amici e amici Passione Interisti, vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al canale così non vi perdete neanche uno dei contenuti che vi portiamo ogni giorno qui su Passione Inter. E parliamo di mercato parliamo soprattutto innanzitutto di quelli che sono i due affari in chiusura, queste sono secondo me due notizie tra virgolette minori ma comunque importanti e molto interessanti. Uno è Alex Perez, difensore classe 2005 spagnolo, abbiamo già tracciato un identikit del calciatore, trovate sul nostro canale un approfondimento che vi racconta maggiormente chi è questo difensore di piede mancino oltre un metro e novanta di altezza che arriva dal Betis. È un'opportunità che l'Inter ha scovato e ha colto subito, vi avevo già detto che la scorsa settimana l'Inter stava presentando questa offerta di prestito con diritto di riscatto e poi una serie di bonus e anche una piccola percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Era in scadenza di contratto nel 2025 quindi rinnova col Betis per poter poi fare questo tipo di operazione con l'Inter. L'Inter l'ha colta, ecco l'aggiornamento di queste ore è riportato dal giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano che immagino conoscerete che tramite il suo profilo X su Twitter scrive che ha già sostenuto le visite mediche quindi possiamo definirlo un affare già completato e stiamo aspettando appunto solo le ultime definizioni, gli ultimi dettagli per poi arrivare all'annuncio. Il dettaglio aggiuntivo che posso darvi questa settimana su Alex Perez oltre a questo è relativo al fatto che da quello che emerge non è detto che andrà con la primavera o meglio sarà in questo momento aggregato alla prima squadra, farà il ritiro, sarà valutato da Simone Inzaghi e poi in base alle valutazioni di Simone Inzaghi si deciderà. Però attenzione perché come dicevo ho sottolineato appunto che si tratta di un difensore mancino, è strutturato fisicamente, ha ancora poca esperienza ad alti livelli, sappiamo bene che Inzaghi poi sui giovani ci va un po' con cautela però chissà magari se incide, se fa bene in questo ritiro estivo può strappare anche magari una convocazione, una aggregazione alla prima squadra potendo crescere poi a fianco a giocatori più esperti che possono ulteriormente valorizzarlo. Quindi attenzione a questo dettaglio, sono giorni in cui verrà valutato. L'altro affare molto caldo è quello relativo a Tesman, il centrocampista statunitense, Tanner Tesman, anche su di lui abbiamo un identikit approfondito in cui vi ho raccontato questo calciatore, è quello che mi hanno detto degli osservatori che lo conoscono fin da giovanissimo. Ecco, nelle ultime ore soprattutto vi ho raccontato come anche altre società stessero cercando di inserirsi nella trattativa per Tesman, anche lui diciamo sta cercando di scegliere la destinazione migliore, vuole fare un salto in avanti in carriera ma lo vuole fare nella piazza giusta, nel progetto giusto per potersi valorizzare. L'entourage ha anche delle richieste abbastanza elevate, quindi è una trattativa comunque da fare ancora, però ecco da quello che è emerso l'Inter in questa settimana vuole andare in chiusura anche su Tanner Tesman, su questo centrocampista statunitense del Venezia che ha fatto molto bene anche in Serie B. E quindi questa è una settimana decisiva per portare avanti queste trattative con l'Inter che intende acquistarlo per poi girarlo in prestito una stagione, non verrebbe aggregato subito all'Inter, ci sono diverse società interessate, si sta parlando di alcune società in Inghilterra tra cui l'Ipswich oppure in Olanda c'è il Feyenoord che aveva provato anche a inserirsi nella trattativa proprio per acquistarlo ma potrebbe essere potenzialmente interessato al prestito. Un profilo molto interessante secondo me con delle caratteristiche che in questo momento forse un pochino ci mancano a centrocampo però va testato ad alto livello quindi per questo potrebbe essere ceduto in prestito. Due affari quindi in chiusura, un altro colpo che Inzaghi ha praticamente annunciato è quello del difensore Mancino. Dicevo in apertura di come Inzaghi nella conferenza stampa di venerdì ci ha detto che per adesso sono stati fatti tre colpi. Una frase che è passata un po' inosservata ma in realtà secondo me come dicevo sottintende che si sta lavorando su alto operazioni e altro si vuole fare. Chiaramente un difensore serve o meglio. L'infortuno di Buchanan ha aperto questa nuova esigenza di cui Inzaghi ha parlato, sono andato a riprendermi il virgolettato della sua dichiarazione. Ecco Inzaghi aveva detto queste parole prenderemo un centrale per sostituire Buchanan perché abbiamo Carlos Augusto che mi piace tantissimo come quinto vogliamo andare lì a prendere un giocatore utile per fare il vice bastoni. Questa urgenza c'è ma non ci fa perdere il sonno perché abbiamo visto che in quel ruolo ci sono sia Carlos Augusto che Acerbi. Ecco quindi Inzaghi ci conferma quello che aveva detto anche Ausili ovvero che con l'infortuno di Buchanan l'idea non è quella di prendere un esterno ma di prendere un altro difensore e di prenderlo Mancino per fare il vice bastoni. È un'urgenza ma questa cosa non diciamo non ci impedisce di dormire la notte. Questo è un po' quello che ha detto Inzaghi perché vede anche Acerbi come possibile sostituto lì all'occorrenza. Acerbi che tra l'altro sta lavorando per recuperare dall'infortunio e sta recuperando bene non ha ancora raggiunto il gruppo diciamo come lavori dopo l'infortunio dopo l'intervento però potrebbe farlo presto. Quindi Acerbi dovrebbe ripresentarsi al via del campionato in perfetta forma e quindi sul pezzo pronto per essere utilizzato. Quindi in emergenza sia Carlos Augusto che Acerbi possono fare il vice bastoni mentre Inzaghi sempre in questa conferenza ci ha detto che bastoni lo vede solo a sinistra di fatto e non anche da centrale. Quindi eventualmente per il ruolo di centrale sono altre le ipotesi d'emergenza tra virgolette da considerare. Più difficile Bissec eventualmente Pavar mi verrebbe da immaginare. Mentre Inzaghi ci dice appunto che un difensore mancino verrà preso dubito che l'idea sia quella di aggiungere Alex Persi in questo momento a meno che non faccia vedere delle cose clamorose già nei primissimi giorni di ritiro. La sensazione o almeno quello che è emerso dal post conferenza stampa ne abbiamo parlato anche con il nostro inviato Gianni Parisio che era presente in sede. C'è stata la possibilità di fare un po' due chiacchiere con Marotti, Inzaghi, Ausilio eccetera eccetera. Da queste chiacchiere e ne parlavamo con il nostro inviato l'idea che emerge in questo momento sul difensore è Ci sono due profili a parametro zero come Ermoso di cui si parla tanto e Riccardo Rodriguez che sono due opportunità. Tra i due secondo me se Inzaghi potesse scegliere prenderebbe Ermoso proprio per caratteristiche tecniche anche proprio come status come valore del calciatore spagnolo appunto. A livello economico Riccardo Rodriguez si fa preferire perché è un'opzione che praticamente ti costa a impatto non dico zero ma quasi perché è un ingaggio contenuto, accetterebbe un contratto di un solo anno, ti arriva l'indennizzo dalla FIFA per l'infortuno di Buchanan, sostanzialmente Rodriguez lo vai a coprire così. Ermoso si parla invece di un giocatore che avrebbe abbassato le richieste di ingaggio fino a 3 milioni e mezzo di euro all'anno comunque significativamente inferiore ai 5-5 e mezzo di cui si parlava all'inizio però comunque si tratta di un contratto triennale per un giocatore che ha 29 anni è un investimento comunque importante per un giocatore che come caratteristiche ti può fare secondo me solo il vice bastoni. Da centrale ad oggi non ce lo vedo detto che comunque è un giocatore anche di grande esperienza e di status importante però ecco dall'altro lato la sensazione quello che è emerso quello che abbiamo raccolto è che l'Inter vuole valutare davvero fino in fondo la possibilità di fare un colpo alla BISAC in difesa cioè andare a prendere un giocatore che ha già un minimo di esperienza che quindi si è già un po' formato per cui non un diciottenne ma magari attorno ai 20, 21, 22 anni. Quindi questo era l'identikit che vi avevo tracciato già diversi mesi fa se vi ricordate quindi che già è un po' formato da questo punto di vista con un esborso economico contenuto non troppo elevato e quindi possa essere un profilo da valorizzare oltre ad avere anche un impatto nell'immediato. In questo senso ci sono diversi nomi che sono circolati come quello di Vasquez del Genoa però il Genoa potrebbe essere una trattativa più complicata perché il Genoa ha bisogno di incassare probabilmente in questo momento quindi non apre a formule creative. Si è parlato anche dell'ipotesi di ritorno di Pirola che sarebbe un'ipotesi comunque interessante perché utile in ottica liste secondo me sarebbe un giocatore è un giocatore vivaglio Inter quindi non ti occupa slot sostanzialmente è un'opportunità in più è Mancino è già un minimo di esperienza anche in Serie A ce l'ha quindi potrebbe essere un profilo in questo senso. Il nome veramente più caldo in queste ore però è quello di Cabal del Verona Mancino colombiano che sta emergendo sempre di più come profilo molto caldo per la dirigenza nera azzurra. Sostanzialmente si parla di una valutazione da 10 milioni di euro per questo giocatore classe 2001 quindi va per i 23 anni se non li ha ancora compiuti. Ha un vantaggio magari rispetto ad altri che oltre a giocare da terzo di difesa quindi da vice bastoni può fare anche il vice di Marco eventualmente all'occorrenza può fare anche il quinto. Secondo me in un Inter che è votata all'attacco in un Inter che è così offensiva come quella di Inzaghi lo vedo più da terzo di difesa perché appunto ha delle caratteristiche anche il recupero è molto agile comunque anche nel recupero è ben strutturato fisicamente anche se ancora magrolino forse gli puoi mettere anche un po' di massa in più. E poi lo vedo anche con la giusta sfrontatezza nel giocare il pallone nel tentare proprio la giocata nella costruzione dal basso quindi con queste caratteristiche qua secondo me in un Inter che spinge e che gioca all'attacco lo vedo bene da terzo a sinistra magari affrontando proprio un percorso alla bisseg cioè cominciare a farlo giocare soprattutto in quelle partite in cui l'Inter te l'aspetti dominante e che giochi soprattutto nella metà campo avversaria. Gare casalinghe contro squadre diciamo dalla metà della classifica in giù possono essere quelle giuste per farlo crescere con fiducia e quindi l'Inter sta andando appunto su Cabal risulta ed è vero un interessamento da parte della Juventus. Da quello che mi dicono però è più una manovra di disturbo della Juventus che sta cercando di fare questo un po' con tutti anche lo titolo nelle scorse ore si è molto arrabbiato il presidente della Lazio ha parlato del fatto che sia la Juve che il Napoli si sono inseriti su Greenwood solo per dar fastidio alla Lazio sostanzialmente. Ecco non so quanto sia vero questo so comunque che la Juve anche su Cabal sta provando ad infastidire scusatevi ad infastidire l'Inter ecco e scusatemi adesso recupereremo la voce e comunque valutazione da 10 milioni di euro l'Inter sta provando ad invastire un affare con un esborso minimo nell'immediato proprio perché si tratta di un'operazione da fare che forse inizialmente non era molto prevista che però l'infortunio di Buchanan ha accelerato e quindi un esborso minimo con la possibilità di inserire un profilo come Camatè nell'affare col Verona appunto per prenderlo a delle condizioni molto agevoli e poi un riscatto tra un anno magari questa è un po' l'operazione su cui si sta lavorando sono curioso di sapere anche un po' voi che cosa ne pensate di Cabal se vi piace come profilo se pensate che sia il nome giusto in questo senso. Nel frattempo sarà una settimana importante anche dal punto di vista dell'attacco perché intanto l'opzione Gudmundson in queste ore ha parlato Gilardino il tecnico del Genoa e Gilardino ha detto che la sua sensazione è che alla fine Gudmundson resterà anche se poi ha anche detto però sul mercato mai dire mai solite frasi di circostanza. Quindi su Gudmundson rimane tutto aperto con l'Inter che rimane fortemente interessata ma sempre vincolata appunto a delle cessioni. Quella di Correa innanzitutto che piace in Sud America ma in queste ore si sta parlando molto anche dell'AEK Atene interessato all'attaccante argentino. C'è poi anche la questione Arnautovic. Secondo me pensare Gudmundson più Arnautovic-Rosa la vedo veramente dura e ad oggi Arnautovic rimane all'Inter per quello che è la sensazione per quello che trapela. E poi come detto se vale per Vázquez vale anche per Gudmundson. Il Genoa ha bisogno di incassare non so se aprirà a delle condizioni molto agevoli. Le parole di Zangrillo presidente del Genoa sono state piuttosto chiare nelle scorse settimane quando ha detto che Marotta ha provato a prenderlo gratis. Gudmundson e il Genoa ha respinto questo tentativo. Quindi senza un'operazione in uscita in questo caso il nome che viene in mente è quello di Carboni. Senza una cessione pesante di Carboni pensare ad un assalto a Gudmundson in questo momento sembra un pochino complicato. Però vi ho sempre detto, ve lo ricordate, fin da maggio l'attaccante dopo Taremi, l'ulteriore attaccante, è una questione che secondo me eventualmente si sbloccherà ad estate inoltrata. Quindi ci sarà da attendere. Due flash in chiusura, un collega, un amico, un esperto di mercato mi ha detto attenzione perché c'è l'idea di fare un altro esterno comunque. Nel senso che dopo l'infortunio di Buchanan, oltre a Cabal per la difesa che può fare anche i due ruoli, mi hanno detto c'è l'idea di vedere un altro esterno possibilmente. È uno scenario che per me in questo momento trovo difficile, sia per motivi di liste che per motivi economici, sia perché comunque Buchanan poi a dicembre rientrerà. Quindi per la seconda parte di stagione ti ritroveresti un po' affollato sugli esterni. Però registro questa cosa, ve la metto qui e la valuteremo. Mentre non credo che la questione sia legata a Dumfries, perché comunque su Dumfries al momento le strade portano verso il rinnovo a quanto pare. Quindi dovrebbe andare a rinnovare il contratto rolandese. Ne sapremo di più in questa settimana, vi terremo aggiornati. Seguiremo Inter Lugano, non è ancora chiaro se sarà trasmessa o meno, ma nel caso in cui dovesse essere trasmessa in diretta la seguiremo live su Passione Inter. Quindi vi invito a iscrivervi al canale per non perdervi neanche uno dei nostri contenuti, le live e tutti gli aggiornamenti di mercato in questi giorni. Su Passione Inter.club poi dalle 22 come ogni lunedì nuovo appuntamento con la nostra chiacchierata, la chat vocale con tutti gli abbonati. Quindi vi aspetto su Passione Inter.club per partecipare a questo appuntamento. Il quiz di giovedì sera, quindi tanti argomenti e tanti contenuti anche e esclusivamente per i nostri abbonati del club. Nel frattempo vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui. Grazie a tutti. Grazie a tutti.